Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qui, sono su questo server comprato da me, quindi server per tre mesi e sono in compagnia di un mio amico, BlackWars4316, di già io ci ho perso, cioè ragazzi, ecco qua, allora io direi come tutte le serie in copo di prendere la legna. No, io voglio prendere la terra, però se tu vuoi la legna, ne prendiamo la legna. Allora ragazzi, in questa serie cooperativa potete vedere che abbiamo la race map, perché se no, guarda che c'è scritto race map, se vai su internet c'è scritto map, sei tu che la chiami race minima? No, perché è una minima, è minima, non è grande. Mamma mia, e vabbè race minima, non è minima. Vabbè, l'importanza è che ho una mod per la minima. Insomma, ecco appunto, guarda che se non mi vuoi perdere ti conviene vincere nella pianura con me. Oh, c'è ragazzi, dice, però se prendiamo prima un po' di legna, sai com'è, no? Oh, io la legna l'ho presa, avevo c'ho fame e mangio un porcellino. Maialino, vieni con me, maialino, ti voglio. Oddio, quanto lagga. Ragazzi, come dì già si lagga? Ho avuto un colpo di lagga, no, per niente, è passato. Credo sia passato. Io dì già, sei andato verso la pianura? Ah, strappo, mica pianura che c'è. Ah, sì, ecco, ecco. Sei in mezzo a una montagna di neve con gli alberi e mi fa, sei in mezzo a una pianura. Il signore, incredibile, il mio compagno di partita non capisce qual è una pianura. Eh, di partita. No ragazzi, c'è un lupo, c'è un lupo, c'è un lupo. Ma ok. Però se ci facciamo prima una spada? Aspetta, la devo craftare tuttora io. No, io faccio la crafting table, tranquillo. No, la sto già facendo io. Vabbè, io faccio i bastoncini di Fimbus. No, la ce l'ho fatta io. Ragazzi, vabbè, io mi faccio il polmetto di fare per te. Oddio. Allora, mi faccio io subito un bel piccone, poi mi ci prendo subito la pietra. Ok, tu vai a prenderla qui, poi io vado a ucciderla Luca. Ok. Noi in realtà, ragazzi, avevamo deciso che avevamo, perché a quanto pare non si parla già più, che, oddio, quanto mega lag ha fatto un colpo di lag enorme, enorme così. Anche perché, vabbè, insomma, avevamo deciso che avremmo fatto scavare, abbiamo scavato in miniera, poi abbiamo preso la lana per dormire la notte, però non rispettiamo mai a quello che diciamo. Quindi, se, che ne so, un giorno ci fissiamo gli obiettivi e diciamo che ne cambiamo così di botto. Cioè, diciamo, diciamo, oggi andiamo a cercare le pecole per la lana. Ah, ne ho già trovate tre. Noi vediamo i maiali e andiamo a uccidere i maiali, quindi non fateci caso. Appunto. E lo scopo di tutto, ma di tutto, 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 cioè tutto questo ambadame, tutto. E' uccidere, andare nel land, uccidere il land del drago, prendere l'uovo. L'uovo, come il tropeco. E metterlo in una bella posizione, poi a quel punto finirà la serie. Può darsi pure che finisce prima. Neh, ma noi, ma io cercherò di impedire di finirla. Cioè, allora, che piano di maiali e di mucche, te dove sei andato? A ucciderle pecore. Ho già preso 5 di lana, con questa fanno 6, con quella la fanno 7, con quella la notte. Ti basta la lana? Vieni qui, pecora, pecorina. Scusate ragazzi se vi sembrerò Nabbo nel parkour, appunto. Stavo per dire Nabbo nel parkour, perché non riuscivo a salire un gradino. Volevo saltare da un albero all'altro, sono caduto. Perfettico. Ti faccio una spada e un piccone. Ma che gentile, indietro ovviamente. Di legno però, no di pietro, di pietro. Io ammazzo le pecore. Quale pecore? Non ci sembra il pecore. No, i maiali e le mucche, tutto. Un po' detto. Io voglio farmi la coratta di cuoio e poi ptingerla di rosso. No, non ho il rosso, il giallo. Sì, ho anche il rosso ora. Ok, sono un boss. Sono un boss. No, io non ti vedo perché c'è a distanza corta. Non so se tu mi vedi. Non lo so se hai questa mucca davanti a me. No, allora no. Ma c'è lei per le pepele? Oh mio Dio. Ma guarda quante mucche, ma guarda quante mucche. Ma c'hai la lana per i letti? No, 6, no, 7, no, addirittura a sé. Oh, ma stupida mucca, mamma mia. Non riuscivo ad ammazzare un maiale. Oh, mio Dio, ho fatto, ho fatto, madonna. Da quale parte sei andato? Stai vivendo un laghetto? Verso il ghiacciaio, boh, tipo c'è un lago enorme e poi di nuovo la montagna. Ah, sì, aspetta che vengo allora. Eh, perché portami la spalla, perché questa di linea mi insegnavano tre colpi, ma con tre colpi mi tocca cominciare a fare con ricordi in seguito. Ma Tom, ma guarda quante mucche, ma qua ci facciamo tutta l'armatura in cuoio già da adesso. Aspetta, stai fermo lì, non ti allontanare perché... Ecco, sinistra, destra, io sarei destra. Eh, lo so. E dammi le mie cose. Ma dove sei? Sì, non devi seguire la mucca. Mi dai la spada? Ti do la mia usata. Ma certo. È che anche la mia è usata, non dà una... Davvero, ma una spada usata, non ci credo. Non c'è l'ultimo di tanto. Io mando un po' di carne cruda. Guarda questo cane come mi guarda. Guarda questo cane come mi guarda. Oh, muciamo i cani. No, 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 ammazzare, che dopo ci attaccano tutti. Però questa è bella pianura, è bella. Certo, ragazzi, ho avuto un culo di server, l'ho preso. Sì. Sento pure per prenderci un coso, a mettere un coso, lo spawn no, eh. A metterci un one point. Ma chi se ne frega, tanto... Tanto ce l'abbiamo i letti, giusto? Ma chi se ne frega, ci sentiamo i letti, quindi ogni volta che moriamo nasciamo a quella che sarà la nostra casa. Ho in un primo momento un buco sotto terra. Vedo una zucca mia. Furio, furio, quella mia con la mia con la zucca. Vabbè, è piena di mucca. Ma è mia, è mia, è mia la zucca. Ti prendi quella, io prendo questa. Io prendo questa che è quella che ho visto. Sii, Jack o Lanter. No, no, aspetti. Zucca in testa. Ok. Non sono bello con la mia zucca in testa, io? ma proprio qua, si trova il video giro di lei oddio, arriva lo zucchinator signori, zucchinator c'è un tizio su youtube che mi sembra che è pure molto famoso che si chiama zucchinator lo zucchinator si vede che usa sempre l'elmetto a zucchina quindi ha tanti fan bella questa comunque ragazzi, io che sono bravo vi lascio in descrizione il link del suo canale se volete iscrivervi per lui, al suo canale e poi io vi lascio in descrizione anche il link del suo video se volete una panoramica diversa perché sicuramente a lui lagga di meno che a me quindi se volete andare a... scusate se adesso avete sentito una donna che ha invitato il nome del mamma, la mia sorella ma adesso... dietro di te tipo, aiuto, lag ancora, ogni tanto ci sono dei colpi di lag terrificanti io non so se riuscirò a accendere l'ender dragon ragazzi quindi la serie andrà avanti per molto tempo se ci seguite bene spolliciate in su commentate ogni commento va bene diteci cosa volete un buon qualcosa un buon ciao ciao e cliccateci pure per quello che sbagliamo ovviamente uh canne oddio oddio che lago oddio 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 che lago ecco le canne no le canne sono mie ma smettile le ho viste io ma che cavolo vuoi io prendo queste piccoline no no tu me le rubi tutte appunto io non ho pensi due ma carbone 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 guardate ragazzi quanto è bugiardo ma scusate ma se ci facciamo una casetta tappiamo sto buco qui aia mi hai scusa aia madonna oh il ferro è mio no il ferro è mio che cavolo vuoi l'ho scavato io è una ronda ma vai via ti scansi quanto sei brutto ho parlato quello siamo uguali vabbè ragazzi noi qua in cooperativa non si riesce a giocare meglio no oh mio dio no no si riesce a giocare no no va bene no io non so giocare io manco mi ricordo come fare il piccone se io sto scavando questo si mette davanti ma io ti dirò una ma scusa ma se per la fumante ci vediamo ma sappiamo un burro qua c'è un enderman c'è un enderman vedi già cosa sta già venendo notte non vedi eh c'è un enderman ragazzi credo che voi l'avete visto no ma anch'io l'ho visto ma dico mica è notte è giorno eh lo so ma perché c'è mi ha fatto male oddio non lo guardare non lo colpire l'ho guardato l'ho guardato no non è vero no si l'ho guardato davvero allora no a lei non l'ho guardato spero guarda c'è un muoce oddio 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 si è messo davanti a me oddio oddio mi ha colpito no non mi sembra oddio io vado in acqua vado in acqua sono al sicuro ah lui vedete ragazzi che fifone lascia i suoi compagni da solo vieni anche tu scusate ragazzi come se io gli avessi detto di restare lì io gli ho detto di restare lì no se voi dopo mi avete controllare il video ne scusate ragazzi vado un attimo a casa poi vado a fare un po' di legno perché ci serve noi abbiamo una casa credo che useremo per la buonanotte questo buco qua ma si chissene tanto il carbone tanto è giusto per orce tanto poi ma tanto poi abbiamo la lana per fare i letti la notte passa in mezzo secondo casa si perfetto e vado a fare un po' di legno solo che c'è pure che poi viene la notte in effetti il sole sta per tramontare dovrei prendertela io ma la lascia mi dispiace quanto sei gentile vabbè io quanto sei ah è questo quello che mi dicevi si posso desiderare allora aspetta quindi sono passati già 15 minuti no 10 10 però aspetta tu prima di partire no perché eravamo entrati prima eravamo entrati prima nel server sai cosa mi sono dimenticato di prendere il telefono e cronometrare il tempo vabbè comunque saranno passati 10 minuti perché comunque è passato eh ma 10 non è questo il buco il buco dove abbiamo scavato la sì questo è il buco dai io comincio a chiuderlo quindi il massimo aspettami eh ma mettimelo fuori ma grazie no ragazzi non lo faccio davvero voi vedete che io non sto davvero chiudendo vero ragazzi guarda se stai chiudendo ti ammazzo lì già sono tutto sono tutto full diamond ma è full diamond nei tuoi sogni si chiamate oh mio dio ragazzi scusa per se parlo così però sono sai veloce che è venuta notte devo davvero chiudere adesso e aspetta no aspetta niente tu adesso muovi il culo e torni a casa o ti metti in punizione aspetta mamma mia quanto sei nobba allora io faccio le torcia ma tu hai una crafting table no ce ne ho due ah eccola tu è mia passana ma che stai scemo voglio la mia crafting table mi metto in questa stanzia ma se io scusa ti faccio un po' di torcia è meglio oddio non devo parlare così ma cos'è cosa una porta non c'è no aspetta i letti i letti i letti ma perché ho messo io la mia crafting table però aspetta un attimo direi che prima è meglio che ci sistemiamo l'inventario oddio che lag oddio che lag che schifo da pancio lag sì però volevo pure me farci un attimo la fornace per bocciare le lecce ma perché ti devi mettere in parte a me non ti voglio ma sì scusa ragazzi io lo odio mi sa che le nostre case molti in cooperativa avete visto tutti i video fanno le casette tutti insieme ma noi no perché le cose fanno una casetta enorme tutti insieme ma dato che noi due ci stiamo antipatici dato che le ceste non si possono neanche bloccare chi guarderà il mio video e vedrà quanti nascondigli farò ma dopo quello riguardo quindi tranquillo che poi io so dove fai nascondigli ok allora io quando in quei 30 secondi di fuori onda creo un nascondiglio segreto no in 30 secondi tu crei un nascondiglio segreto tu non crei niente perché quando abbiamo finito di registrare fido il server sì mezzo secondo ma a proposito ma io da quanto li facciamo direi io che per ora va bene facciamo un altro video perché comunque adesso tranne 13 minuti ok va bene ragazzi per oggi è tutto da me BlackWolf4316 è tutto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao